Maltempo. Smottamento stamattina lungo la strada intrapremeno a causa del cedimento di un muro privato. Sul posto il geologo, l'amministrazione e i tecnici comunali, la polizia municipale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'arteria. La strada è stata riaperta a metà pomeriggio. Altri interventi dovuti al maltempo hanno impegnati i vigili del fuoco nel Cusio e in Ossola. A Drogno, in Val Vigezzo, una squadra di vigili del fuoco è stata impegnata per liberare la strada statale 337, a causa di un albero che occupava la carreggiata. Nel comune di Quarnasotto, un piccolo evento franoso che non ha provocato disagi. Smottamento anche sulla provinciale 49 di Madonna del Sasso, una strada ad anello. Nessuna località risultava isolata. La strada statale 659 delle valli Antigorie e Formazza è stata provvisoriamente chiusa, secondo un protocollo regolato da ordinanza a Canza, a causa del pericolo di Valanghe. Stesso provvedimento per la strada a Baceno-Goglio-Devero. Intanto, la persistenza delle precipitazioni che stanno interessando il Piemonte da una settimana quasi senza interruzioni, ha causato un generale innalzamento dei livelli idrometrici, sia del reticolo secondario che di quello principale. In considerazione di ciò, e data l'intensificazione dei fenomeni previsti per la giornata di domani, il bollettino di previsione delle piene riporta una criticità ordinaria, giallo, a partire dalla serata di domenica sulla quasi totalità dei corsi d'acqua. Meteo Live VCO parla oggi di 70 mm di pioggia già caduti a Domodossola, record in questo primo giorno di previsto intenso maltempo in tutto il VCO. Resta alto il limite delle nevicate, per Cusi e Verbano attorno ai 1500-1600 metri. Entro domani nel capoluogo solano potrebbero cadere, spiega Luca Sergio, altri 100-130 mm di pioggia. Lo stesso aggiunge che di questo passo, per quanto riguarda la neve, invece, a fine perturbazione in Val Formazze il manto potrebbe arrivare a 3 metri.